Buonasera a tutti, sono Luigi, un Aracuse preferite, benvenuti e bentornati su Dragon's Battle. Oggi affronteremo il trentesimo stage dell'ESA di piccolo con un team free to play completamente, ormai ESA dopo Goku sono diventati una mezza chiavica, quindi per cui non mi viene neanche sinceramente la voglia di affrontarli o di portare video con team eccessivamente pompati diciamo, quindi per cui andiamo con un team extreme tech per la maggior parte, non completamente, avendo il Krillin Baba che pressa poco l'unico leader tech free to play del gioco. Quindi andiamo con lui e il resto una squadra di extreme tech più o meno messa. non ho l'idea di come andrà la battaglia, temo male, temo abbastanza male, ma proviamo che ci costa. Oh, per esempio te devi caricarti cattivo, per fortuna il nemico ha solo sui 6 milioni d'HP circa, quindi dovremmo riuscire più o meno a gestircelo, spero. Ah, un po' meno di 6 milioni in realtà. Dovrebbe avere a questo punto 5 milioni. Ecco, questo non doveva accadere, ma vabbè. Possiamo tankeggiare al prossimo turno e poi ricaricarci con Furisa-sama. almeno è quello che spero. Sinceramente è quello che spero riuscire a reggere su turno, ricaricarci con Furisa-sama e vedere un po' di che morte morire. Andiamo avanti, vediamo un pochino come va. Tampor turno abbiamo due Namekchan, quindi qualcosa dovremmo riuscire a farlo. Se in su turno non crepiamo male, dovremmo anche farcelo. Buono. Ok, tankiamo. Perfetto. Vai, Guruldo! Ottimo. Eh, le buschi un po' a te, eh? Ma va bene. Sell qua unicamente per tankeggiare. Freezer passa alla prima forma. Quindi ho quell'aumentino di danno che potrà aiutarci e la recovery. Sì. Sì, che lui tanka anche bene, dato che è un Namekian. piccolo e debole la classe Namekian. Eh, purtroppo non si possono giocare un gran che dire Namekian decente. È un piccolo punto debole della strategia. Si può provare se avete piccolo... Ah, giocato in team full Namekian. Ma, oddio, in realtà, dato i danni che sto vedendo, è abbastanza easy. Con un piccolo livello 135 dovrebbe già avere la leader scrittiva. E ce l'abbiamo fatta. È stata molto più veloce e facile del previsto. È un po' una delusione? È troppo una delusione. Ed è troppo... Cioè, 3 minuti e 27 il video. Davvero, piccolo, è questa la tua potenza? E allora, mettiamo un piccolo video bonus. Vediamo un attimino un bel team Namekian con piccolo. Quanto lo ammazza veloce? Che ne dite? Così giusto per farci quattro risate. Ha tra pochissimo che potenzio il PG. E rieccoci qua con un team Namekian, giusto per provarlo, con Nailer e neanche il portato SR, perché non ho... non ho Gregory. Come tutti i giocatori che farmano SA, i Gregory... Guardate se non c'era di primo turno il dannato, eh. Non dite una tornazione che dire da schifo, usare un eufemismo, aggiungo, eh. Però dovremmo cavicchiarcela circa. Circa. Team Namekian, scusate, come vedete, doppio piccolo. Molto tranquillo. Cavoli danni. Cavoli danni. Potrei crepare peggio del previsto. A. Ma... È vero che doppio 77%, ma pensavo qualche dannino in più. Pochi, pochi, pochi in più. Eh. Così è già un qualcosa di più accettabile. Sì, vabbè, quasi sciotta. Tipo. Tipo. Quasi. Se non c'è stato poco ci mancato. No, mi sa che questa la perdiamo. Prima di me la perdo addirittura perché non ho un Namekian montato bene. Me lo sono montato a random, qua ho anche scazzato, quindi, ragazzi, sarà una sconfitta esemplare. Poi ci tornerò, eh. Mi farmo slag, tutto quanto a posto, e lo distruggo. Però avendo il PG al sensability e tutto, e se ha uno, mi sa che ho chiesto troppo al caso. Vabbè, dai. Almeno ho fatto vedere che ci provavo. Detto questo, io vi ringrazio in seguito e della morte vi auguro una buona serata. Tanto si vince con Team Free2Play. Tornerò, piccolo, tornerò.